Ola, 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 ola. Va, vedi. Questa è la stream, va. Trova l'audio. Taci, taci, turno. Taci, turno. Va beh. No, cada volta che usati questi movimenti. Ma io ho un'occhia, se non è un'occhia. A me ne piacciono. Ok. Hola, Yahir. Hola, mondo. A tutti. Hai, lau. Hai, lau. Un secondo. Ecco, un secondo per favore, apriamo il browser per leggere il chat Ciao a tutti Ah, è arrivato anche su questo mio cellulare? Ciao a tutti Ah, è arrivato anche su questo mio cellulare? Perfetto Oh, è incredibile, oggi va oggi sembra che 315 le piace 315 Cioè, espera Jess, noi facciamo più subscrittori quando non facciamo una live? Ah, sì? Oh, 315 Allora, Vittorin Allora, io come sempre inizio una partita più veloce, veloce, veloce Ho visto che sei collegato, eh? Ho visto che la ragazza è collegata? La, la, la No, il mio nome, il mio musical sangue Splat, splat, splat Doctorius Splat, splat, splat Claro Haro God, your switch battery is low Mh My mind is low too My, my voice No, my mind My mind Open your mind Mind Open your eyes Open your mind open your mind open your mind open your mind I said shut up rap shut up because I'm a fucking party boy in the the here no 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 doctorius doctorius loli hola loli lola cada vez que te bedo mas loli 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 lola hello hello poison poison gaming yeah interesting your love look like poison no? I'm not going to ask you il tuo amore è come il veleno na 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 ma dov'hai? non ti hola hola kelly se chiedete la canta questa noce perché il mio vecino sempre ha servito con la noce e con sé questa noce è la noce del party group party group radio party group boom 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 mobo è il mobo di pacchi no no non capisco aspetta aspetta laura wait wait laura if you want to speak with me in uh you you have to to wait jesse was here okay lolita te gusta la fragolita uh guys right now we are in peggy 16 so the the family is only friend friendly oh la zarate 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 ge ha venido zarate te lo crees in serio zarate è come karate ma di zara è un karate hecho a medida entiendes che tal che tale stas no no cala o cala il miglior il miglior e sicuro habla un altro idioma e non so io creme è vero eh è una cosa è un arte e c'è medida zarate per me perdona ma sono un artista italiano allora non so se voglio giocare la splatoon perché questa vissiata di dragon quest builder allora aspetta 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 svevi un secondo loli perdona svegli come vai via buonanotte dove vai buonanotte ciao svegi io io l'ho chiuso io parlò, come Holz miση ci vuoi parlare JO functional ed lo reformato domani ch sono messico ng viva messico sv lasragolita è venuto da messico al reno Noi! Ci siamo con voi, fratelli mexicano! Ma Laura, non ho letto, vai e scrivere il messaggio, tio! Ah? Hai detto qualcosa di che non ti vedo o qualcosa, non lo so No, non lo so... Puoi scrivere, per me, per me sottotitoli Ah! Che li sono 30 minuti! Ojalá! Grazie, Gabriele! Grazie mille Grazie E animo con la classe maggiore Come, spero che non esiste Che? Le classi Ah Penso che è una delle migliori mani di passare il tempo quando non hai bisogno ragazzi, ho ancora di bere il mio caffè Olè, olè, olè Il caffè Olè, olè, olè Il caffè Ho oggi sono felice di essere qui Perché non ne ho jugato niente oggi Ho solo lavorato, ragazzi, sto stresato quindi credo che darò il miglior lato che ho e poi prendere questa live perché stai facendo un po' mierda con il baietto Olè, olè, olè Il caffè Non posso giocare Bailare e muovere Non posso giocare Gabriele è un buon intento te lo passo Buon notte Gabriele te vas a dormire Gabriele si, ti ho passato solo per lasciare un like per salutare E ora 3 disliked 3 disliked 3 disliked è un bufu Alla nuove like Grazie 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 per il like Ok, Poison Cosa? Scusami 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 Dicendo che Scusami 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 non so come fare questo significa cielito e il cielo lindo e il cielo puoi essere? il cielo è molto bonito lleno di corazzi si, si oye trovato che è trovato? ah 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 Scusami Angelo non metto mai in serio per favore perché almeno nello diretto non tiene che tornare in serio, allora ti dico ora fare il check sound, dare il mando a Jess, così potrei fare il test e ti direi, può essere che tu stai sperando il buffering, può essere, viva mexico, hai, le due moncchie alle 4 della maniana, ora dice sorpresa bufu, bufu Kaleb, bufu, allora, che Kaleb, bufu, eh Angel, 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 te dico, te dico che non è un problema di audio, tiene che sperare il buffering oh, poissons, never, we're not saying really interesting stuff, we're talking about one having a little bit sound problems, but everything is fine here, so it's him, what else are we saying? ma poissons, no poissons, non black, c'è black, c'è black, c'è black, c'è black hai tu ever played with us, poison gaming, or hai tu adedas? questo anche? sì, anche hai tu una switch? no, Laura, io ho dovuto tre spiegelare, io sono anche 19, oh, siamo completamente in giustà ho spiego prima wir werden... wie dove si dice? unser Splatoon erlebendo o wir werden Splatoon erlebendo plastiche come fetiche non, ma non, ho dovuto, devo aspettare sperate un momentito, se si accadne il buffering o a muy malas reiniciare si era 이� o usa usa il youtube gaming Angel, intenta di usare un YouTube gaming, se non lo usas. Ma... So, sorry for the question, I don't want to sound like I'm super forgetful, but I am. Just to know, have we added each other already? Yeah. Composent. Ya sois amigos? Quien? Espera, eh? Con Poison hemos jugado ya. Doc, 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 Doctorius, Doctorius, Doc, Doc, Doc. Dice que ya has jugado con él, osea que has jugado antes. Ahora, ahora, ahora hay un, solo un sitio internet que quiero ir a visitar. Si bien? En Mesudelapoya.es. Que existe de verdad, eh? Eh, va, va, va. Eh, Caleb, por favor. Ahora, vas a ver el sitio, internet. Buu, buu, buu. Ha, 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 ha. Ahora te lo envío, eh. En Mesudelapoya.es. En Mesudelapoya.es. En Mesudelapoya.es. En Mesudelapoya.es. En Mesudelapoya.es. Yeris, solo. Si, si si, lo recuerdo. Tento seguro. Sorry, no Iris. Peque ti ha detto, non ho mai conosciuto Iris. Adesso conosco questa qui e quella della banca. Non ti ricordi? Si, 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 lo recuerdo Iris. Sorry. Sì, credo che ci siamo conosciuti prima di Christmas No? O in the Christmas periodo Credo che l'abbiamo conosciuta quando abbiamo fatto l'after 12 ore Without stop, non stop Oh, sì? Sì Oh, ora abbiamo anche il nostro famoso dislike Antes ti hai detto che abbiamo un nuovo like e non abbiamo un dislike Ora abbiamo il dislike No, è un problema Grazie per il dislike, anche ragazzi Non si anima sempre a essere meglio Grazie E io non la penso così, ragazzi A tommar per il culo Hico di p... Io so nemo tranquilla per la notte Anche con questo dislike E anche con 5 Anzi, faremo un piccolo doctorino Molto pronto Quindi il suo sogno anche di tuo figlio Di tuo figlio di tuo figlio di anni che saranno si, Kaylie e come sempre non ci abbiamo dato la gente si sta subscribendo e noi non stavamo in stream, 5 persone si hanno suscrito e noi non stavamo in stream questo mola io credo che le cose il special che abbiamo parlato hace tempo lo vamos a lasciare per i 400 perché non so, di repente io fino al 1000 ma non c'è il special che ogni giorno stiamo solo giocando ma è special ogni giorno ci passa qualcosa di special che passa, Yair? in 2 mesi ci sono solo cose speciali ogni giorno ma è in serio penso io ogni giorno è una cosa nuova come Igo di Black per esempio una persona che non ci parla però abbiamo che parlare un 20 giorni di questa persona di questa persona che non c'è non c'è un puto commento oh 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 king, king Alex Gaming ciao Alex hola hola cioè devi usare il mio cellulare quando c'è il bar 9 aggiungerli ricordati sì 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 infatti cosa a lei ce l'avevi giocato sì I remember really 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 I remember Iris but but you can't comment no cosa so I don't know tell me tell me something we can we can chat we can really if you have one question who I can answer no problem hola Vicent 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 in spagnolo in spagnolo io non se ma lo se este è black come si chiama? nooo come si chiama? nooo questo è Kaleb questo è Kelly nooo me matò Kelly black black vale Alex dopo il partito ti accettiamo in seguida no ti devi pagare Ale 15 euro il deposito ti devi parlare con Kaleb che ti enviarà la coordinata bancaria in breve mira chi ci ha posto il dislike ha cambiato d'opinione e non ci ha posto un like bene grazie ti ha posto il dislike esti like e già sta bueno stavo salmiando un numero di suscriptores per sapere se Alex había suscrito e di repente me ha saltato la vista perdona eh io credo credo che voi voi a quitar lo like e lo dislike hai una manera per quitarlo e io lo voy a quitar hola Lucas che tal benvenido io e Sarco siamo novio già già ho fatto si declaro bueno che tal Lucas ha passato per qui qui c'è qui c'è che passa oggi stai un po' indeciso se con esto hola Lucas perdona con esto de borrar mensajes sono quelli sono che non è un problema non è un problema per me amo quando la 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 l'abbiamo conoscendo così subito bella Iris thank you hola tutto questo questa invasione qua è stata andata dalla merda che abbiamo tirato in quella che la non può essere apriamo pubblicità ci siamo fatti hola hola questo lo dava di gamer? ah, gamer, ora ha venito hola, che tal? si, si, eh gamer 98 I'm using my worst weapon poison poison, here it is if you use discord dice discord do you know discord? 9 kills wow Kelly, un abrazo, un beso, descansa uh, Laura eh, passala bien si, Kelly, buenas noches hasta pronto eh, eh, Iris you can add me you can add me in discord you have the the server in the video description because we you can enter in our server and watch all window so you understand better more think about us ah, hola the fox el fox el fox original is our fox si Caleb has 21,0 insuperable in spratum con lanzatintas that's a lot, right? this is a problem of jazz the dislike of mine I like the haters that they they love because you you have to know how to learn what to do is better than find someone that can call you i, 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 i i, i i, i i, i i, 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 i Ah, buono, buono, buono Buono, buono, ponte le pietre Te unis a mi? Eh, mira Eh Quiero giocare un par di partita Qui perché come sempre Juego solo, solo, solo in privato E non c'è mai comprare mia arma o cose così Quindi ti dico Ora mismo no Lui faremo in privato noi In breve Hola Clau Hola Clau Mi examen è in inglese Però tranquillo che vabbiamo a giocare tutti E credo che ti hanno anche suerte E sicuramente siamo più che Ocho persone e ti faremo anche un video Se vuoi E sai che qui che sta parato Tu eres mio Tu eres mio Si Oh 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 Iris Just love for you Eh lo si è lo si è Si E eres un disonesto Vicen Ai Come si Non ti chiedo Ma Come hai sconsumito Dile l'inglese, per favore Questo che è successo a Unigodi Oh, da Yolanda 80 No, dile l'inglese Dile l'inglese E per la resta delle persone che stanno ascoltando in inglese Qui è il nostro amico Igo di Vicente Ha raggiunto Non è 85? Non aveva 18.35 Ha raggiunto 80 Dele l'inglese Di qualche ruota L'inglese e la sua squadra hanno ottenuto 80 Cosa pensate? Non è incredibile? Oh, la Fox Vale Vale, vale Ma al final non si è suscrito A nostro amico Alex Dice No? Hola, hola, hola Angel Otra vez, che tal? Si Vale gamers Mañana faremo un directo En un horario bueno Chicos Mañana Sì Haremos un directo En un horario bueno Tranquilo Bueno, ciao Kalev Kalev Se empieza a trasformare En un amigo di De Fox E anche a ti A te Adios Suerte con il examen Inglese Vale, vale Victorin Tambien? Si, è chiaro Mira che ora sono Oh, Vittorin Non si trova molto Travacato la tarde Entiende? Disculpateci Cos'ha sido impossibile Anche il zarate Adios Adios Chicos Adios Si Che numero Il zarate è bellissimo Sì Sarà l'appelito, no? Credo che sì Oh, 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 oh Buona, Sark Ecco Facu Facundo Facu No, non lo sei Si è conectato Si è conectato Ora Ora Ah, vale Mira, oggi Vamos a hacer un directo Con los amigos Con los hermanos Latinos Al final Al final Vamos a jugar Con todos Nuestros amigos Latino E a tomar Por cubo Gioca Giocano con me E con i miei sentimenti Oh, 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 oh Aquí, aquí, aquí Pero, te pusieron así Pero, como apellido, no? Zarate Verdad, angel No entiendo Esos no son apellidos En breve Creo que lo enciendo También Tu tienes que encenderla E mira Lo del torneo Veramente Cioè, Caleb Tendremos que organizzarlo Nosotros Se cosa Sweet Rush This is really Or just My fantasy My secret love She is here Oh, my God It's my secret love Yeah Marco He is with Rush Marco Marco She is married With T-Bone Victor No, Vicent He is married With Sarkness Maybe I can Marry With Rush Ah, my angel Vale, vale Muy guay Vicent Vicent Tenía ganas De decirlo Vicent Sin censura Toh, hazla tú Va a un partido Si Pero si encende esto Puede ser que La visual va Quanto somos? Uno, due, tre, quattro Solo quattro personas? Hombre, stream casi todos Menos geren Allora, yo Laura Laura, Laura Mamma mia, Laura The spy Spy Laura Einar Einar Es mi otro nombre Que guay At At I Stop JK Wo ist er? No Dein 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 No No I Nehme mal Einen Pinsel Zum campen Hab ich gestern probiert Ich hatte gestern den Anschein, als ich richtig gut spiele Ich habe auch immer so, so wie du gerade, weißt du, so 8 kills, so 5, 8, 9 kills Was gibt's? Da habe ich gedacht, ach, jetzt probiere ich auch gar mal den Pinsel Oh Gott, null und bin nur die ganze Zeit gestorben und habe nicht mal bemalt Oh Gott, das ist er in den Oh Gott, das ist er in den Sweet Are you entering in the room? Oh, Sweet Betty Wow, Sweet Rush We're gonna get my toy Oh, what's the laser? No, 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 what are you doing? What are you doing? Can I leave it? No Oh Oh, no No Oh, no Best friend forever Thank you Thank you Sweet Really I'm glad to hear this He's six years Who? Who's six years? You are mine A both of you are mine Capito? Seven to three two Suoi And only mine Yes I'm Property Of Sweet Rush Property Private Private Property What do you sing? This is from the one What is the one? What is the one? What do you like the music of the... Pardon? What do you like the one or the two? What do you like the music of the one or the two? I like the three A me What? Even the five has a good music What? What do you like the music of the one or the two? Oh, I fell in my head with a bomb! How can I do? La dos, del dos, del dos, tutto del dos, mira, è in serio, io non sono un machista se non ti dice, callate mujer, con questa domanda così tonta, non sono un machista, io non lo dico. Iris ha un problema con l'internet connessione, quindi scaccia, 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 scaccia. Mira, Caleb, lo sabia che può essere grazie al jazz, che sia una cosa così, è differente, è il, come si chiama, è il latino lover della situazione, chica, no, è Caleb, a me mi gusta, lo che ti gusta a ti, quindi se ti dico la della uno, a te quale ti gusta más? Dami la della uno. Qual? La della una al dos? A me? Io credo che la della una al dos. Su, la musica. Oh yeah. Oh. Poison went out of the match, ok. Io, again? Io, here! Jess versus il baccalaser, anche se lo usi io, io vengo in contra, no? Allora, devo parlare come vengo giapponese, tra, aver quando apprenderei che sono giapponesi e non cinesi. È breve. Wait, please, my friend, wait. Wait, wait. Wait me, I write you in a second. In a seven second away. Na 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 na. Buongiorno, amico mio giapponese. Come sta, come va la tua giornata? Oggi, punto interrogativo. Noi tutti ti diamo un grosso saluto e abbraccio. Sei becco. Voila. Boa, 12 Kills machst du in Pinsel? Ich bin gestern zu dem Entschluss gekommen, aber es jetzt irgendwie voll unsympathisch wirkt, dass der Pinsel für Leute ist, die keine Treffsicherheit haben. Das Wort, das wir gesucht haben. Weil ich finde, das ist zu unprezise irgendwie. Da schießt der irgendwie überall hin, aber überall, aber nirgends. Ioana. Also ich hasse die Waffe, die... Boah. Mi querida Ioana, che tal? Ioana. Eh? Oh, mira, mira ese. Splatoon fan. Hey Doc, esta camisa es mia. Vale, eh, eh, Splatoon. Eh, mas tarde te la doi, te la doi, otra vez. Tranquilo. Te la pongo ahí, sulla sillia. Sei tuya. Ah, Laura. Ioana, bien, bien, bien. Grazie. Muy bien. Buya. Buya, buya, buya. Buya, buya. No, aquí, todos juntos. Quien se quiere? Todo el mundo. Oh, que boni. Todo el mundo. Estoy contento. Caleb quiere... Ay, contento. Eh, me cambia de sexo, gente. Escucha, escucha. Ioana me quiere. Yo quiero a Clau. Clau quiere a Michele. A Ioana. Michele quiere a Bon. Caleb se quiere solo. Caleb se quiere a sí mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fíjate, hay alguien que splató. Wow, ahora son todo hígo. Dios, por Dios. Ah, ahora leo lo de Claudia. Vale, Clau. Ciao, Michele. Non te había visto. Ti he sentito el tuyo nombre de qua. Poison. Recuerda de admiar mi mi server. ¿Te estás ahí? ¿Te estás ahí? ¿Te estás ahí? ¿Te estás ahí? No. Ella no te ha admiar mi ahora mismo. Así que ella no quiere mi afrontar. Ah, pero Splatón Fan. Antes no solo para decirte que la camisa era suya. Sí, Splatón Fan, ¿eh? Y para decir también está demasiado lejos. No, no. Splatón Fan también ha dicho ¿Cómo puede ser que son todo hígo? Yo quiero a G.Gab. Vamos a ver, vamos a ver, mamá. Un choc, entonces, Todi. Yo quiero a mi amor, Alessandro. Y yo quiero a mi gran amiga. No, nadie me quiere por eso no leggi amor. ¿Quién? Loli. ¿Y Caleb? ¿Y Caleb? ¿Nadie lo quiere? ¿Eh? ¿Caleb? ¿Sabes que también lo libro de Caleb se borran la página por no estar con él? Cuando Caleb compra un libro está lleno de palabras. Al final se van. ¿Vero, Caleb? Historia triste. Loli, ¿no tiene los otros? La Monquitas. Yo quiero McDonald's. ¡Qué bonito! Yo quiero McDonald's. Yo necesito McDonald's. I want Subway. I want pizza. Una pizza margherita. Una quattro queso for cheese pizza. This is... Life. Una vez que no comemos pizza. Sark, Sark. Yo quiero a Sark. No entiendes que la hacen. Vicent dice, yo quiero a Sark. Otro amor ha nacido aquí. No entiendes que el amor ha nacido entre hombres. Dígilo, dígilo. Iris, aquí hay amor. Sin un limit. Homero, amor, hombre. Homero es como ser creado entre hombres. No, cuatro hombres. ¿Tú? Sí, cuatro hombres. Vicent es Sark. Vicent es Sark también. ¿Se han costado? ¿Por qué? ¿Qué me perdido? Ragazzooli. ¿Qué? 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 Ángel, si tienes dinero, te quiero yo. Si tienes mucho dinero, tipo si ahora mismo me puede comprar un cane con un cane diamante, esche de diamantes. Hola, Laura. Laura. ¿Verdiste pero bueno en la tinta? ¿A mí? Trap forever. Sí, trap. ¿Quién es trap? Soy yo un trappero. ¿Quién? ¿Quién hallo? ¿La vida se salida? ¿Escúntas trap? ¡Bravo! Yo escucho el trap. A tomar por cubo. Todo lo que no escuchan el trap. So, haha, me encanta. Hijo de un pincel. Hablo como una joven, ¿no? ¿No parezco un poquito de no? ¿Un joven? Puede... A tomar por cubo. No, no lo tengo tanto, soy un niño. Vale, entonces piensa trabajar, no sé... La Nike siempre... No, no, trap. No, no, trap. No, trap. Desinformados forever. Pues el trap existe, es otra cosa. ¿Cómo odias la música trap? ¿Cómo odias la música trap? Ahora la borro, ahora la borro. Eliminada de amigos. Claro, claro. Oye, esta partida no es perdida, es lo siguiente de perdido. ¿Qué sería lo siguiente de perdido? ¿Qué sería lo siguiente de perdido? Yo sí tengo... Yo sí tengo... Ostras... Man, apenas... Apenas... Asoy, voy a cumplir 10 años. Ok. Vale, vale, entonces puedes trabajar solo medio día, no un día entero, con 10 años, ¿no? ¿Cuánto puedes trabajar? Cinco horas, no 10. No, menos. ¿No? No puedes. Vale, vale, entonces nada, no te quiero. Ángel, perdona, no te quiero más. Retiro mi palabra. Caleb se ríe en silencio. No sabemos de qué, pero se ríe. ¿Por qué te ríes, Caleb? Hemi. Hello, Hemi. Y me lo voy a gastar en Kirvi para Nintendo Switch. Y no lo mismo de Marina y Perla. ¡Guau! Beato de... Sweet Rush, sorry, pero a esta hora, más gente española y latinaos vinieron aquí a los latinos española y latinaos. ¡Oh, eh, cuando tu madre en pijama! ¡Oh! ¡Fai el autotune! ¡Oh, eh, cuando tu madre en pijama! ¡Hai, me cúma, hola! ¡Auto-tune! ¿Qué tal hoy? ¿Qué ha sucedido? No, Sweet Rush, be quiet, por favor. Mi equipo ganó este Splatfest. ¡Gracias! ¡Tú, amor! ¡Oh, un abrazo, Ángel! Hola, Neo. Hola, Neo Christ. Buenas. ¿Vas a partir, eh? Ah, me haces un langeveile. ¡Oh, Ángel! Si quieres, agrega nos. No sé, en la Switch, en YouTube, donde quieres. Y nada. Esperamos un par de años, a ver si empieza a trabajar, a ver si te quiero. O sea, ¿no? Yo sé seguro que puedes, tú puedes, Ángel. ¿Cómo el leche se ha movido ahí? Yo, 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 Ana, yo. Yo. Solo yo. Nadie más. ¿Quién se tiene que ir, perdona? No sé. Ah, pero no seas lindo. Ángel. Ah, ¿qué te vas? Gracias, Ángel. No. Aquí estaremos. Voy a tirar el control contra la paleta. Te lo juro. Mira su trash. ¿Ves lo que ha hecho a ti? Realmente divertido. Hey, no take my sweet. I'm just repeating her words. My sweet. Tralala. Ma come on Mi pare un po' quasi copiato da Mako Solo quasi Tu puoi attaccare Se non hai avuto ebola Ebola E qui non è ebola Ma che Con chi sto giocando Grazie Angel Splatoon fan La mujer De Visen Si Ah è esel Ah vale vale Visen Entonces eres tu La mujer Vale Vale Ora intendo Sark Tu conmigo puoi seguire la blanda Tranquillo Seles l'ombra Eh guarda Mi sa Ci fa cercare Chiaro Chiaro E quello è bello Si è bellissimo E quello è bello Ma minchia Non dire Oh 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 Ciao Give me five Give me five Jazz Ma lui lo sa che siamo gamer Credimi Adesso accendo la mia spugio Per non ce l'ho l'amico Basta Amica Ah scusa Sweet Rush No ma No ma non ce l'ho l'amico Era un altro Un altro Mi spugio No No Io parlo anche Da men Masculino No ma non ce l'ho l'ho l'amico Io direi Sì Antes Ho detto Sto cansado Sì Sì Sweet Rush Jess Said Eh 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 Como si dice Eh She go to play With her Switch Because She don't have your friend So she can play quietly Eh Eh No have to die Like every second And Y Caleta Ah Chichis Muy Bien Hoy También hice un examen Más Estais todos Arriba Hay de Exámenes No 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 Nosotros Tranquilos Sweet Rush No 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 I was just kidding Rush I was just kidding Eh Nada Hoy hemos empezado Súper tarde Porque hemos estado Todo el día trabajando Sniper time Así que poquitas personas Nos estamos encontrando ya De aquí de España Forza chicos A la 20 personas online Me tiro un peto Nel micrófono Forza chicos A 20 personas online Voy a tirar un peto Nel micrófono Me he perdido Come on guys A 20 people I shot One Part In the micrófono ¿Por qué dices Splatoon fan Alguno aquí No me conoce Yo tendría que ser al revés I'm going to do What every time I get you What every time I get you I'm going to do I'm going to do Mi chiamo Ale I'm going to do 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 Se non sta spattando altri me ne vado a fare in culo io proprio volontaria perché non voglio stare a giocare con gente che mi sta solo cercando Se poi ha spattato anche agli altri tre volte ti dico va benissimo Tre volte, tre volte No adesso è tre She spattato ti 10, 10 volte I think Dove è andato Caleb? Ma dove è andato Caleb? Ma è caduto? Ma questo è Caleb? Ah, sabes che parecito momento stavo con il Jetty e di repente non stava, si, io sto stai cagliendo Please Sweet Rush, go to kill Jess, please I want to see Jess nervous Come on, come Sweet Rush No la prossima volta la giochi tu, non voglio giocare con lei Dico sul serio, non sono del suo livello, non c'entra niente con me Ioanna è l'altro Non sono del suo livello, non posso imparare a giocare con una persona che mi manda in base ogni due secondi Capisco? Capisco? Te consiglio di essere la youtuber Tu sei più youtuber? Si, io sono una... Que gay, Mersi Io non mi chego quando mi splattano, però... Quando ho una sensazione... Ojalà E che me persigui Ojalà A chi è più amare questa parola? Ojalà, a mi mi piace Ojalà No, Jaime Cielo, io non posso Te lo dico io in serio Cinco, sei Claro Ha fatto cinque kill, perdona chicos eh Si, in serio, non è veinte kill Ci voglio accendermi switch Thank you, thank you, sweet Thank you, no, no, no Come no? Vai fai che cazzo vuoi, dai, monti, monti, monti Non capisco, no? Vai vai, accendi la switch, accendi la switch Si, sto dicendo, vai accendermi la switch, per favore Eh? C'è una cosiddetta Eh? C'è una cosiddetta Buongiorno Buongiorno Puoi salire? Mi sbidio? Puoi salire? Sali Ah! E come, Ioana? Dimmi Come puoi essere? Che ti hai pensato? Dimmi Doc, doc, doc Doc, doc, doc I do Boys, boys, boys Mitrieta, non ho caricato il controllo No, 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 no Non ti senti qui tu? Sì, non so come... Ah, non è male! Che ora è ICO di Alex? Alex Bienvenido! Hai un mobile? Claro, io ho una che ho un mobile Non... Tu hai corso? Que buoni tutti! Me stavano animando! Grazie! Ojalá... La oga toc, toc, toc... Continua Splat, splat, splat Doctorius! Doctorius! Aqui te preguntan se si vas a fare in un privato Si, si Antes de morir, voy a fare in un privato seguro Poison, si Guarda, questo è il mio primo match Io faccio un match più E noi facciamo un modo privato Si Perché in realtà Io non... Ehm... 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 mazzarela, incredibile il stato della batteria del controllo come si sa? buonesto? si, ok, però Ioana Ioana tu pregunta asido si, ok, io ho capito ma avete mai visto il mio mone guardate il mio mone e il mio livello io non ho mone e sempre il livello 53 2 mesi non è possibile in modo privato ora il codice il codice qui ok 8 4 7 8 8 2 no, credo che non, Gama credo che non lo abbiamo I wish I can talk to you again ha detto Sweet Rush come dire? vuole parlare di nuovo? Sweet Rush, quando stoppiamo la stream Jess è davvero felice perché non potete vedere la face di Jess ma adesso Jess ha una face veramente felice e smilando si, si si, si, si si, si si, si si, si oye, oye, Johanna Johanna tutti questi bebes Johanna che ti miro io sei qui che, Coco vai sudare, Coco Jess e sua storia di motivazione non ho leo non ho leo non ho leo non ho leo si, si later vi adios, ci vediamo later later Jess parlare con te for sure come viva Jess oye, Johanna oh no, Laura Laura dice là dentro sorry non ho leo non ho leo non ho leo miro mamma mia guarda che squadra io Iris e tu contro Caleb Johanna e Svit Rush che no è il logo io il terzo miro ecco neocris ciao sta qui sta qui no non ho in a way in a cherry cherry cosa commenti non ho in a way in a cherry cherry cosa non ho in a way non ho in a cherry cherry non ho in a cherry cherry o lo con la siguiente entra Gamma e Laura claro 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 Lo sento, mi equivoqué, che puoi dire? Vi vale? No, non mi ho jugato. Mira la siguiente, tiene que entrar Laura in Neo Christ. Eh? Solo può essere Caleb. No te preoccupi che lo mato io. Grazie. Ah, veramente Iris? Non lo sapevo. Oli, sweet. Dice Iris che è Team Wood, però che sta unendosi a un nuovo clan. Bene. Ho spero che ti... No, non c'è. Ho bisogno di un ucchi. Mi ha mai unito alla prossima. Molto bene. Chicas, l'obiettivo è andare per la torre. Si, però è che Caleb sta matando. Vale. Molto semplice di quello, non è possibile. Non è possibile. Se chiama Negan. Esa, perdona. Non lo sape. Non lo sape. Preguntava a Caleb, lui lo sape. La pregunta, ademais, è un poco redundante. Chi è il leader del tuo clan? E Negan. Ah, che è il leader. E Negan. E dice, tutti siamo Negan. Igual che Walking Dead. Il Walking Dead, chi è il boss? Negan. Cambiato. Ah, tu sei. Il mio si chiama Nova Pro. Il mio si chiama Negan. Il mio si chiama Igo di Negan. Il gioca poco, però a volte che gioca, fa daño. Eh, non... Il mio sii. Gamale, Gamale. Gamale, Gamale. Tiene che essere... Sì. Non ho sento la cont… I ho sentito. È scritta all'le. È scritta all'arra, into. È scritta due volte. Oh... Mirolo un secondo, per favore! Cielo, che non lo sai semplice tutti. Sì. All'istia. Sei perso... Fai qui! Fai che fai! Lora? Laura, non rimane ancora? Laura?! Voglio che qui in Bayern non rimane? Magre che non rimane ancora buono?! Oh 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 oh! Ecco, ho ho! oh no sei stato tu e ma perché abbiamo un altro che me stava matando o salmone o salmone come stai chiamato il giorno parlare di te chissà se se sta bene o se risalendo la corrente l'hanno pescato oddio 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 come stai salmone scherzi a porno come stai qui bene bene grazie ieri ho avuto una giornata di merda un mal di testa allucinante però boh tutto tranquillo dai o ascolta salmone ricordati discord che siamo tanti lì è unisciti sei sempre vivo l'importante è quello tanto a noi a noi piemontesi non ci ammazzeranno mai siamo ci siamo lì da prima negli egizzi minchia vai vai e se si avete scritto che suegno con la canzone di splatoon perché è stato rosa cosa giochi cosa giochi salmone fammi capire che noi non giochiamo solo a splatoon cioè mi stai limitando solo a splatoon c'è la faccia di quello che gioca solo a splatoon grazie ti reputevo un amico e se non fossi per la gente che ci guarda sicuramente giocaremmo molti altri giochi molto più che splatoon ma diciamo che gli ultimi tre anni l'ho passato di giocando a splatoon più o meno si volontariamente giocando a splatoon però molte volte stiamo giocando una cosa diversa perché abbiamo voglia e ci chiedono di di giocato per tutti e molte volte l'indirno dalle Ecco ora, Kaleb ha messo a te un link per mandare 20 euro per il cambiamento del nome. Prima di aver sentito un piccolo cuore. Cosa? Vorrei giocare a Poké perché mi piace molto ma ogni volta spammano sempre. Che sta dicendo questa persona? Chi? Il Hemi. Il Hemi? Ma vai in un altro posto se non sei di un livello alto. Oh Hemi! Io sono un livello di merda. Hemi, Hemi. Scusa, davvero, davvero, davvero. E spera che abbassiamo il livello. Sì. Adesso? Ma cosa possiamo fare? Guarda me, sono a livello 18. Ma poi chi è l'Hemi? Ah Spider Bro, 12. C'erano veramente queste cose già mi sperano. Aspetta che scendo di livello. Sì. 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 Sì, sì. Boom. Oh, qui è. Tu puoi cambiare il nome. Tu devi mettere Aigodi. Sì. E qui c'è uno spazio. Scrivglielo. Sì. 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 Il nome che ha scritto. Si fa andare a percorso. Sì. 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 and the following on how long the name is i think you can put like a four letter name, with the space between or a five letter name without space all right Sì, quindi, Gemi dice che Spider Bro ha lasciato lui, non? Eh? Ciao, Jaime! Si, per questo è stato facendo scroll, perché ha lasciato 2 o 3 minuti. Ciao, Jaime, che va molto bene! Spero che stai ancora qui, buonanotte, ci vediamo domani e grazie. Un po' in ritraso, te lo dico però. È che come stiamo noi due ora giocando, non lo sentiamo solo della metà. Oh, va bene, va bene che è Salmone. Buonanotte, ascolta Pokken, aggiungi Discord. Quando stai giocando e non sono in streaming, mandami un chat vocale e giochiamo a Pokken. Hai capito? Che io ce l'ho a Pokken, non è che non ce l'ho. Solo che nessuno ce l'ha dei miei, perciò che cazzo mi viene da giocare a Pokken da solo come un minchione. Ho fatto la storia un po', però dopo un po'... Dai dai, scaricalo, ti connetti al server, mi dici che sei tu, così ti do i permessi per fare le cose. E se hai bisogno di capire come si usa Discord, facciamo una chiamata e niente. E ti spiego come funziona Discord tranquillamente. C'era un po' un po' un po' un po' un po' per noi. Eccolo, questo qua è un altro di quelli che arriverà 50 volte al giorno. Ah, saltare. Hola! Vado, tschüss. Tschüss. Ok. Hola Victor. Tschüss, ciao, salmone. Vada bene. Laura. Oua. ODER, wenn ihr mal zufällig auf euren Reisen seid, kommt ihr mal vorbei. Das wäre auch cool. Turin. I'll change my name Turin. Estarruino Turin, no? Oh, nenne Turin, no. Turin. Rin. We need two more. No. Sweetrash. Sweetrash. Where are you going? Where are you going Sweetrash? Oh, buonanotte. Ermanito Calebito. Ermanito Calebito. Ermanito Calebito. We have the t-shirt. A 1000 subscribers. We have the t-shirt. Kelly, I give it without you. We have Johanna. I don't know how to write this. I give it without you, Johanna. Ciao, Caleb. Que vaya muy bien. Si, chicos. Mañana haremos un buen, buen, buen directo en un horario bueno por todos. Si, en un horario. Entonces creo que por las 6, empezamos a las 6 de la tarde. Y hasta que no me se secan los dedos sigo jugando. Vale, vamos. Hey, Hemi. Estamos muy desculpados por que te te sientes nervioso por eso. Mira, también hay yo y Laura y otras personas que también son de alta nivel. Y jugamos con ellos sin problema. No podemos bajar con tu nivel. Puedes solo elevar tu. Y jugamos en modo random. Sí. Así que no elegimos el equipo. Ah, sí. Es cierto. Siguiendo la respuesta que dará. No hacer el giro mega galáctico, si no Loli no sabe si debe jugar en la Cloud War. ¿Me entiendes? Es que no entiendo lo que nos dice con esto. Ni, le dices que la cosa es fatta random y que no se debe lamentar. Es que no pensaba que se lo decía por eso. No. No. Ah, tú dices que, claro. Yo estoy acostumbrada a jugar random. Yeah, wait, 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 Iris. I, I go, I go another, another room. Guys, without, without code. No, with code. Zero, 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 uno. Keep playing, Hemi. We will get it. Oh, Gama. Es que el chico aquí se lamenta porque estamos demasiado fuertes y él no puede jugar bien con los otros. ¿Entiendes? Entonces, como, ¿qué puedo decirle yo a un tío que me dice esto? Gama, juega un poquito más con los otros, así empieza a jugar bien. Laura. Ich übersetze dir es auch. Hemi ist irgendwie wütend oder traurig, keine Ahnung, weil er irgendwie ein ganz... Er hat das gleiche Niveau wie wir ungefähr, ein bisschen weniger. Und er mag es nicht, weil die anderen halt stark sind, aber... Oh, di nuovo. Oh, my rush. Aber wie gesagt, wir wählen ja nicht die Teams aus. E Barack Obama. Eh, eh, eh. 0.001. Dile. Già. Il codice? Il codice... Tu sempre... Una pagina indietro dei chat, tu. Per parlare troppo. Il codice è 0001. Dile, per favore, in inglese. Il codice è 0001. 1 Sto anche scrivendo Scusate Cosa? Scusate 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 Ah, e chi significa? Che è la TRS? Non so dove ti hai fatto entrare, te lo sai Sei in una stanza da sola E sei tutto o io? Io Vole fare una cosa, non posso Va beh E' la partita E non posso vedere dove sei entrata, vero? Ok Che passa? So, I'm not man. Terce. Terce. Does it matter to you, Terce? Emi, we don't know who's Terce. What is Terce? No, I don't know. Terce è Laura. Ah, vuole sapere cosa ha detto Laura? No. E direi la stessa cosa che sta chiedendo lui, se potevamo tradurre se c'era un problema con lui. Quello, basta. Hemi, she only wanted to know if you have a problem with us, with us. E and then we have translated in German. You have to understand that this is a multilinguage chat, so it works a little bit different than other streams. Just a little bit. Yeah. And this? Because if people... And I don't know. What does it mean I don't know? Basta. 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 Abbiamo detto che non perderemo più tempo con queste persone. Sì, 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 sì. Basta. 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 Laura dice che non ha assolutamente niente a ver, che la juega... Che la juega un montone di volte e muchas volte gana e che... e che ha a rapporto con come giochi e in assoluto con quello che stiamo dicendo a noi tutti da l'inizio. Tu sei davvero vero, Laura. Tu sei bene, sono i miei sugari. Le sugari sugari di dolce, dolce, dolce... Un bambino animale? Non? Non è un cucchino? No. Perché hai il tuo telefono? È corretta le parole? Non. Non, non? Hey Loli! Loli! Lola! Ah, ok. Hurry up, hurry up! Ah, ok, ok. You charge and later we talk, no problem. We wait, we wait you here. If we change the room, we put this code. Sweet Rush, watch the screen. Seven, four, one, zero. If we... Diglielo, se perdiamo la connessione... If we lose the connection... Sweet Rush, listen, if we lose connection... This will be the new code, alright? So, if you cannot turn on the mobile... Yeah, in case you cannot turn on the mobile phone, remember it. Seven, four, and then ten, so you know for the next matches. If we lose connection. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok, ok. Sorry, sorry, ok, fine. Ok, ok, ok. What day are you today? 20th of February? Ah, no, it was 19. For you it's 19, still. Poor guy. What is this? I don't want my girl to fight. What? I don't want my girl to fight. Agonist. Agonist. Oh, yeah. I don't want my girl to fight agonist. So... I'm with Ronald. Now I'm happy. The only thing I can do is put my girl together. Ah, Rin, poison. Now we see your name. Cool, it looks good. So I have to remember that Rin is Iris and at the same time poison gaming, no? Oh, shit. It's really complicated. By the way, have you got... Are you using our discord or general discord and our discord server? No, she never come in our discord. No? I don't know if you're interested in it. It's really cool in reality because... I don't know. We talk about things of stream. Yeah, but don't talk alone. Push the button, go. Push the button, go. Push the button, push the button. Go, Loli, Loli. Yeah, subscribe to our channel in our server because we have a tournament really near. Oh, Loli! 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 Lola! Okay, let's go. I don't see anyone more attentive now. Laura. Laura, I thought you were upset, but you actually wanted to say that. Laura, I wanted to say... Jay, I don't want to kill you, but I have to. You have written. Jay, I want to kill you, but I have to. Yes, Laura. Splat! Splat! Jazz every day! I don't know. Oh, Laura, it's okay. I never want to kill you. Never, but... I have to do it too. Otherwise, I'm a loser. Oh, da hast du's. Fühl trotzdem loser. Oh, da hast du's. come è davvero ho clicato senza voler il botone ora sta usando la mia proposta dove sta? non la vedo non la vedo io credo che ha una connessione eh 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 sì, Iris credo che la tua connessione è davvero male sì quella era Laura sì holly, hollà hollà, Alexis è vero che abbiamo potuto giocare così poco oggi sarà maggiorni molto presto sempre vedo ok? per ora buona notte sì sicuramente maggiorni tranquillo che non ti preoccupi che stiamo no e giocaremo toda la tarda e giocaremo come loco io ho capito io ho capito a Angel le gusta salutar molto è molto simile al salutar però all'inversa sai? no no perché io lo dico a The Vox e il seco che viene allora lo scrivo lì con la miccia con la gattita e io dico lì e poi è piccolo 10 anni quindi è molto educato come è che ci ha quedato un metro quadrato? un secondo non un metro quadrato è un secondo è un secondo Ioana con il sniper Ioana con il sniper wow sì però no se le dà meglio il rulo si puedo juzgarte eh a mi è che mi piace molto come gioco con il rulo con il sniper con il sniper però bueno a ver habla la che non sa usare un sniper eh è che me da molta perezza miau 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 con il non aprende a usare un sniper no se perché miau 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 Hola El Pro che tal estas? che? nè nè che ci sono e noi e noi miau 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 e Ange miau 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 è è un secondo è il me sta intendo distraere eh è un secondo me sta mirando e haciéndome tutte ruide e io sto qui sto tranquilla e io sto giocando e io mi mira encima io però vale sto intentando hacer que ese segundo no se cumpla è 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 ora ha bisogno che gli dici oi ragazzi, se non ponete il like maggi non ho avuto il directo se si non ponete il like non respiro e mi mato non mi exagere ho detto che non ho lasciato di respirare il progamer dei giocati oh Johanna se ti volete unire io mi salgo un abbraccio io mi salgo un abbraccio Johanna, mañana sarà meglio il directo è in una ora molto buona jolino, ah però si ti hai quedato molto no Johanna 2 besazos non uno solo per te perché uno è lo che non ho dato ayer è lo che ti doi oggi cuidate Johanna angel ostra un neo si però lui molti volte sta qui con noi mira, abbiamo due neos non uno solo oh, hai due ah, però antes creo che antes ha preguntato se había più neo cosa che era ovvio che non c'era più tutte le persone hanno neo è vero io sono una neosa tío ho minimo 100 neos abbiamo un montone neos nel corpo anche noi anche noi mi meo oh, perdone mi meo mi meo mi meo mi meo ho detto no, io non ho annullato jazz in my team beschützen o da help jazz in gegen il team non può mi non mi e poi va a giocare nel torno di m*** calab escúchate se una te dije che neo è un clan claro claro conosciamo estamos di broma sabemos che hai neo in qualche lato ose en serio si ven un montón di neo qui si Laura lo che dice è jazz e il mio equipo protegere o aiutar jazz il mio equipo ha puesto non mi può matar non posso deixar che me mate calab se va a muover neo ai chicos mi da la risa io non se por che oggi sto de risa schiacci per favore il tasto però già si però c'è una cosa che molesta dimmi che ti molesta la luce atrás oh es che mi refleja la pantalla ti refleja la pantalla allora levantate e la paga stia ti hai las piernas no? hai las piernas hai la silla con ruedas ah 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 ma che cammini? ah siamo sordi adesso Beh, beh, ich bin Harkneus. Oh no, clan blitz, come è successa questa cosa? È toccato il clan blitz, na 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 Io proteggerò, io, io non prendo nessun, no, non posso fare questo, no, chiaro che puoi farlo. Hai sempre difensori. Difensori però che lo sai matare, no? Non come io? Ah, tu sei tu in cima, che vergüenza. Chicos, voglio? No, Chris dice, sì, vai, 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 santi, dai, 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 che il Doctore va a romper e lo chico va a poner, eh? Sono un poeta, so io, oi? Cómo me hai tratato, perdona? Grande, grande, grande Anna, perfetta, brava, brava. Però Anna tiene un pequeño problema, che non hai almejas, e una cosa si no tiene que hacerla, tia. Alla in base tiene que ir solo quando tiene tutte le almejas, perché... Nadie ha roto la barrera, entiendes? Oh! 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 Eh, chicos, mirai sempre quanto almeca hai disponible, eh? Io non sei buona, hai protegendo. Deberi √ored alla direita. Padri, Ohio! √ cosa può passare. Si ha detto che non sia buona Hai solo da trovare? Si, però ho cogiuto due almea. Ho 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 ho. Ora io non le voglio lasciare. Una cosa si las possono lasciare. Sì, sono cogette tante altre almea. ma perché sto prendendo le plastiche? Non le voglio prendere! Passala! Si, perché questo è quello che stai spiegando Passala, non ho capito Ti ho spiegato come faccio per lancerle Con... Ah, vale Loli, Loli, espera! Madre mia, che pistola ha? Che arma ha? Wow! Wow, Anna! Anna, come mi gusta quando usa il... il rodillo? In serio? Bravissimo! Oh, Caleb, maggiore avremo il diretto pronto, eh? Quindi... Per favore, passate qua Boom, boom, Boy Wonder! Yeah, I'm Boy Wonder! La, 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 la Donde stais? Ai, ai Ai, ai Io pregunto, donde stais? Oh, 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 oh Chicos, stienem demasiado... Demasiado po' ballones Bella, Johanna, bella Johanna Madre di Dios Asi se hace Oh, Angel, te digo una cosa Ahora no hay moderadores, entiendes? Seriosos Entonces tu esto lo puedes hacer Ma el día de mañana Si hay uno de mis moderadores Que no le gusta como escribe Si Que lo sepa Que te ponen en time out, vale? Entonces, eh, tu, tu tienes que descubrir Cuál es el limite Y cuándo no ir más del limite Este es el juego, entiendes? El juego no es la Switch Es seguir teniendo amigos aquí Si Es latino Ostras Johanna, Johanna Allí he dejado un montón De almejas Al lado de la pelota Hay una chica que derrota Yo estoy intentando proteger que no marquen más estos Al lado de la pelota Hay una chica que derrota Lo he conseguido Lo he conseguido He conseguido que no marquen ninguna repos Estas puedes decir oft Ya me voy a dormir, que no aguanto Pero tu no te habías ido ya, Caleb Espíritu de Caleb Bueno Bonanit, Caleb Pepe, Caleb, Caleb Descanses Uno, dos, tres Uno, dos, tres Está escribiendo en inglés ¿Visto? Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Vamos! Vale chicos Santi Loli Boy Wonder Chris Laura Volvete Volvete y abrimos ¿Dónde está la Switch? ¿La Switch? ¿Se ha ido? Puede ser que le se ha pagado la Switch también ¿Vale? Vamos de atrás y abro a todos lo que entra al mar Chicos Qué raro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ha ido así? No 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 Yo no hablo muy bien de inglés El inglés ¿English? ¿Sabes que una vez en un examen yo era muy buena en inglés? ¿En un examen? ¡Me he ido! ¡Colabora también! Ok ¿Has hecho una nueva? ¡Vale! ¿74-10? ¿Entonces? ¿En un examen? ¿De verdad escribí en inglés así? ¿Con la i? Yo también ¿Pero ya te hablo con 17 años, eh? ¿Ya? Una cosa así Yo también En inglés he escribido así Y me quitó un punto del examen Entonces, falta una persona Pero ahora nosotros vamos Porque una persona la vamos a ganar en breve Espera, chico Mi inglés es como el cubo Tú también haces la censura como nosotros ¡Ah, no! ¡Un punto! Un punto, Loli, como lo oyes ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Es un demonio? Es un demonio ¿Poison? 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 ¡Poing, poing, poing! ¿¡Má, vá! Pues, ¿Poison? 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 Oh my goodness No, creo che Aqui non risponde nadie Se ha nido ya a dormir Qui non lo trova E che? E questo Cosa? Non ti trova Adesso A volte E il youtube non va bene Lo devi chiudere da tutto Mi sa Wow Ok, ready, ready? Oh si, io zero No, di nuovo Gran Blitz No, anche Gran Blitz Come decide di essere Gran Blitz Ah cavolo Sorry, no Gran Blitz Oli, oli Ola, però come ha saltato No, sabes que pasa? Que he visto esa cosa De pie Esto que esta aqui En la entrada Porque salta otra vez Y he dicho Ah, Gran Blitz Pero no, que va Oh no Oh No Tu me lo dico Ah no, tu lo es verde Eres tu que mi levano Mi no, no tengo idea De lo que ha pasado Y por qué ellos destruyen así de fácil la verdad Increíble Estavo haciendo Estavo haciendo Ya sta No me lo creo No me lo creo Carver con delicadeza Correcto, correcto Ostras Que bonito Un juego de palabras Me gusta Loli Me gusta Incomprendible Lo he già fatto anche yo Esta la tuta Oh sí Sí Eres un copiador Loli Loli Ah, Loli la dices? Sí Ah, un peor la cosa Allora Se viene Keke Boy Wonder Tiene que esperar Esta es la ley Igo di antes de todo Eh, Keke Ma tu discorde Non lo usas Nosotros bien Mein richtiger Name Ist Heißt Du heißt Nicht Laura Du musst Imi Ja Nicht Sagen Du Kannst Ja Nein Sagen Neosanti Neocristo E la Madonna Diana The Bull Wonder Laura Laura Scrie So In mio nome Vero He Laura Incomprendita Spie Laura Mein Name Ist Laura Sofie Willst du Mir damit Etwas Sagen Äh No lo se Rick Parece real Kien es Rick Neocristo Neosanti Hola Estas Vivo No lo se Si Achso Danke Schön Schöner Name Ne Wir hatten ein anderes Mädel aus Deutschland Die hieß Sophie Und die war am Anfang ganz oft hier Und danach nicht mehr Das habe ich jetzt kurz voll im Flash gehabt Und ich so Hä Will sie mir Meint sie vielleicht Sie ist eigentlich Die andere Ist alles nur eine Mein Scherz Ich habe auch einen zweiten Namen Aber ich sage ihn nicht Vielleicht meinen Privat Lilic Ist er auch Ja Du noch ein Jockey Sto ja Tendendo Personals Si puo giocare con il tuo Si puo giocare con il tuo No C'è anche Ana lì Che fa finta di giocare Non se E nel equipoposto No mi è mio Folin Pues estamos perdidos Empezamos il partito Con los personas Si No 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 Ok Discord ho accelto Poison, poison, sì, tu sei il nuovo, nel gruppo, sì, nel Discord, perfetto, quindi, mi aggiungi anche al tuo amico Discord, e puoi mettere il tuo numero di switch in in the right place, in the section of friend code, sì, sì, ho messo a te, oh no, sì, ho messo a te la permissione di Agri, un secondo, por favor, oye, questo è un po' ridicolo, eh, chicos, Sì, sono in Discord, ridicolo, per due potere un secondo, è il mio gruppo, io stai morto, mi sto sacrificando per voi, ragazzi, che lo sapate, non sono del tuo gruppo, solo che io ho, io ho, solo ho, 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 buonanotte si le dice che... no va bene, non passa nulla però appunto hai due si io io lo posso fare perchè sto facendo per tutti al final ok benvenuti Lili si puoi cercare tutte le sezioni come si dice? le sezioni le sezioni la sezione si, c'è un'altra parola a parte di quella le sezioni no i pic si ma si, vaffanculo chi sta facendo questo? no almeno che non giochi più tu con me ma è una moda adesso fare splitbacking per non farti splatare io te lo dico ma non posso incazzare no mi interessa che tu ti incazzi se no ti apri mi apri l'orecchio dai non mi incazzo io che perdo tutte le partite perchè penso sempre con te pensavo che avevamo una dignità qua ma che cazzo me frega se ti vogliono capire come gioco no facciamo un pagamento Paypal e vediamo il gioco serio già aveva Mario Odyssey Polines quanto ha tardato Angel? solo così per curiosità oh Dio che è? no quello lo metto io no no Poison non lo metto io 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 non lo metto io non lo metto io non lo metto io 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 ok super Laura questo è molto bello quindi è molto bello quindi per ora le spaziano le spaziano le spaziano le spaziano le spaziano le spaziano no le spaziano le spaziano c'è le regole certo, certo, Angel è troppo poche ore non vale la pena sono 30 ore, 30 ore, 25 ore che lastima, non? non, è sempre così ma sì, è un Mario ti lo puoi passare 10.000 volte perché è molto bello io ancora continuo occupando vievi giochi non lo so, Ric sembra falso antes ha detto lo oposto che è Ric? non so a che si chiede Ric di Walking Dead Loli l'ho fatto non mi sono scoperto non mi sono scoperto mi sono scoperto grazie ora ho scoperto il tuo codice e ho scoperto il codice a me stesso nella lista in la lista da 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 e ho scoperto l'ho put the eye of aigodi in capital mode because you have put little understand sorry sorry if if i am just a little perfectionist but it's better to put a little bit oh okay i think un po' di qui? perché il paese viene? in che paese viviamo? viviamo in spagna in spagna e in barcelona per essere più precisi più precisi ma io sono italiano e Jess è alemane e tu Angel? è il mexico, gliela dice? Elena! perdona Angel, perdona ho fatto una una merdata ho fatto una merdata e adesso sono aperto come sei? dai intanto allora lars, gioca lars e mi piacciono ne ho ma te mi a mi si chiede? ma no, cuica cuica e lo sei di quello qua si chiede? cuica cuica la vecchina oh ah che ti ascolto vuole si ehm qui è il chat il chat il chat il chat usiamo questo chat il chat lì poi lo inseriamo lì dimas o si eh? ma chi è Lily? chi Lily? ah sorry ma Rin Rin ma come diceva ti fa? ah ok 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 perché uno diceva prima quando vi si ha detto quelle dell'uovo che non era possibile non lo so Perché è possibile, vero? Mi hanno contato che in Brasile fuori gli spolinesi Non lo entiendo Tampoco È solo un voto alla fine E che è? Sono aumentati la gente che mette il suo codice? Eh, un martello sempre Chiaro? Io puoi mettermi solo per cantare Un secondo, c'è? Sì, sì Vabbè, sto già giocando a due giornate così Potrei anche muovere, sì Ioana, Loli, giociamo a punti Se non sei un game master, non l'ho visto Allora! 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 Ok Thank you, Iris Che veloce! È stata la Laura grande! Allora! Wow, wow, wow L'ho vissapertato! L'ho vissapertato! Ho vissapertato! L'ho vissapertato! Nella, wow! ora deve fare il compiti e entrenar, baile! già sta! no, no, è meglio l'entrape che duplis che vivono in mexico e ora vivono in corea i polinesi vivono in corea? non vivono in indonesia? dove è la polinesia? mi pensavo che era tipo filipina e tutto questo la polinesia va, arriva, arriva del centro america però non è corea no? no sta dicendo che vivono in corea in mexico? e poi si sono trasformato ah, in corea, sì, perdona in corea mamma non 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 e vanno a beve come oggi è non è stato saluto ho 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 ne ho santi splatta ades tranquillo, tranquillo Ángel comprendemos nosotros también claro Ángel lo mismo aquí es que tampoco esperemos que habléis todo el rato en el chat preferimos mil veces de hecho, odiamos que estéis en la partida y estéis aquí en el chat escribiendo porque al final venimos a jugar tanto se puede contestar también cuando terminamos el partido claro porque al final jugamos juntos, ¿no? y estamos en el chat en el mismo momento, se supone es un ritmo tropical vale, Loli es verdad, habéis enviado una foto sí, sí lo tenemos son tres hermanos que no sé no sé No, non è finito. Andai se hai fumato l'ultimo. Allora devo fumare normale. Che scuole va a comprare? Che sta gustando? Come ti incontri, sapevo come se io avrei fatto un errore quando sei stato tu. Dai, Jess. Fresca, fresca, fresca. Fresca. Scuole. Scuole, scuole, scuole. Iris, go to, go, go? No, no, Angel, che galletas, non stiamo comendo nada. Per una volta che non comiamo? No, è il ruido che scusa, credo che è questo. Puede essere. Scuole, Poison, te lo direi dopo, tranquilla. Eh? Laura? No. I think you love me and you splat me in this mood? Oh, sì? Oh, pensavo che mi amassi. I thought you love me and you splat me like this. Laura non c'è. Il capo è coca. È stupido. Jess, Jess. È bello come ti giri, eh? Puoi vederlo da spettatore. Loli, Loli, te vuoi abbandonare dal gruppo. Loli, Loli, te vanno dal canale. Loli, Loli, te vanno dallo amico. Se non hai cominciato a giocare ora, verrai che dia ti passa a mangiare. Quando? Solo. E se, chicos, non mi dai 100 like, io dejo di respirare. Jess, Jess. No, no. Por favor. E questa qui è, Laura? Hola. Si, però deve essere fai zucato. No, no, no. It is. Don't worry. I said you when the match finish what I think. Don't worry. Just a positive thing. It is a blue. It is blue. quando si dorme? non ho spiato nessuno hai capito cosa dice laura? che durante il giorno vai a scuola e dorme e per la notte si sveglia e fa i compiti e sei in treno ehi! è quasi a scuola e dorme da giorno ah più che da notte ma non c'è una pozione che mi fa tornare dopo a 14 anni mi piacerebbe farlo anche a me dai e cosa ti piacerebbe fare? minchia la vita al contrario come hai fatto ad aspettarmi? si vieni all'altro lato della caschina è chiaro perché questa questa arma questa arma lascia spara un po' al lato delle schine non penso è io se sei che tu è stata assai io ti sparo lì no noi non mio carico mio carico mio carico non so sempre si è caito sotto semia 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 brava però mi ha aspettato un ring non ti preoccupare non ti sparo non ti sparo non ti sparo come la grafica la grafica è molto divertita hollo in l'air mi ha aspettato che guapo però si va a coper io ho terminato di giocare ora vedo il directo 수�ra , io ho 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 numero laura laura l falar ho mi sorpresa Dovo un bacio ai miei fan Dov' un bacio ai miei fan Come è che del verde non lo sale numero? Che non lo abbiamo movito? No, o no E che in serio? Oh 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 BOOM! No! Santi, come può essere che non hai muerto, tio? Quack, quack Es che non lo entiendo Mi ha parecido un sogno Mi ha parecido un sogno Mi ha parecido, mi ha detto Ese perché Loli non stava Ah, Loli Ha scritto in blu Incorribile E stava con noi Avevamo ganato sin el Mi ha parecido Mi ha parecido Mi ha parecido Mi ha parecido Bufo Ero solo bufu Bang Bazzucar potrebbe essere incredibile Incredibile Non potrebbe essere vero Attenzione Uno Dos Tres Mi chiamiamo Cristo No No, Cristo Criste 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 Ah, ma cosa vuoi fare? Sono salto, ma cosa vuoi fare? Oh, non ho detto cosa significa salto Cosa vuole fare? Tu sai cosa significa salto? Salto Io posso comare Io amo salto Ero Comi Se sei salto Se sei salto Io potrei comandarti atu Bufo Bufo Mi ha piaciuto salto l'olio attacca mordat mordat scusaid scusad scusad significa mordat salti poison so so l'olio l'olio i'm going to bath you painting oh poison i have to say to you one thing but i say to you when we stop the match ok i sleep also only 3-4 hours about amontag ungefähr also so 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 ho visto te has visto X-men no non l'ho visto X-men perché io sono un X-men sono il chico che può dire tonterie e matare la persona con la tonteria che dice sei stupid man e si do colpiato dal raio elettromagnetico che mi ha trasformato a si de tonto io sei stupid man come poter tengolo di non respirare se non mi danno like come si rieaggiano no 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 la Luca vieni bazookarp vieni eco del bazookarp Laura Laura no 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 ha suelto il bazzucar ha suelto il bazzucar ha suelto il bazzucar ya por favor está la base suya oh dios mio me he trasportado y me he olvidado de no no me lo creo que era que estaba allí conmigo gus 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 no no faltaba nada estaba ya arriba 7 metros estaba casi arriba esto no cuenta bien estaba ya a mitad de encima de la torre te ponen el dislike por favor jess no me lo creo no yo no me lo creería lo que estaba diciendo loli loli chicos me he tirado al agua ese paso por no respirar arigato arigato arigano arigano ariperro dopo arigato hay arri perro estoy yo aquí chicos no no es muerto no se preocupe que este bazzucar lo recuperamos ahora mismo en que hora vamos a perder como un palo caliente en el en el en el directo si no te preocupes hay solo que tu eres un palo en el directo vamos a tener que pedir likes vamos a tener que pedir likes a mil likes empiecen a bailar toma ya esta tabla ahora con el pazzucar hemos evitado que se acerquen a más de 7 metros que alguien lo coja por favor que va 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 como sonic te quiero dale 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 Gus ostras no 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 todos mortos no esto no 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 ma che no che no tìo che no che stanno imponendo il bazookar ancora mai bailiamo ma chi è che ha tutto questo razzo? Oh sì? No! il bazookarpe sta in base nostra non ho come lo vedi? vamos, etc dove sta la nostra base? ho capito la tinta ma che è passato allì? loli cosa che passa hai idea che ganamos hai idea che perdemos hai idea che perdemos hai idea che perdemos no no Laura Laura just was a joke because two times I have say to you I teach you one thing a che ti refieres? niente che ti devo dire una cosa dille a Laura a Laura Iris bene hai detto Laura e hai tutto volto si? si Iris era talking to you non Laura io le dico ah che è una broma sei confuso no dille dille che traessione niente niente Laura ha detto il nome verwechselato er voleva Iris non perché io penso sempre a Laura di dire la cosa er dice no il problema è che penso sempre a Laura quindi ab e zu arriva il nome e che le devo dire a Iris Iris dille che guardare le regole del torneo che abbiamo strutturato se è interessata Iris Poison e l'altro potete leggere le regole del torneo le informazioni che bisogna sapere e adios inscribirse e potete registrare per giocare nel torneo cosa mi invento le parole cosa vuol dire registrare no tu puoi registrare tu puoi scrivere tu puoi scrivere l'un nome e poi sappiamo che vuoi partecipare tu puoi sì mi e io puoi la tu puoi ten ti testare che ti lo che mi tu puoi che ti ti pi 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 è un blaster. Il blaster, il problema è che si senti lentamente, ma alla fine si senti un po' più semplice. Un po' più semplice! Un po' più semplice! Vai, Loli, per favore! Loli, sei il più traizionato della live! Sei quello che sempre rovina tutti! Tutti i disliki sono per te! No, no Christi! Ok, ok, ok! Ok, ok, ok! Ok, ok! Ok, ok! Il dato del torneo non è ancora seguito! No, no! Dobbiamo sapere quanti persone vogliono partecipare, solo per fare random, random, perché siamo random persone! Random persone! Quindi? Inizio il match e ho fatto il blaster E sto terminando! Laura sta usando il blaster, quello rotondino, sai? Quello che piace a me! Bravissimo! Grande Laura! Buona scelta! Il mio favorito! Sempre! È un vizio! È un vizio! È un vizio! È un vizio! Perché? Eh... Ha il seguito si è conleoเcomale! Acciono sti! La cosa è quella! È un vizio... È un vizio! Oli, Oli, Oli. Ongel... Aún te liaras con los cascos, no sé si lo vas a llevar. Dicen, ah, creo que me voy a dormir así, escuchando la live. Mira que gritamos, eh, Ángel. A ver si te asustamos y te despertamos así de acuerdo, eh. Que bello, Ángel. Entonces, a estos chicos le quitan los cabellos para hacer las tartas. Eh? Ese chiste más bueno y malo al mismo tiempo que he visto alguna vez. Eh, ¿hay alguna española o una aquí que puede apreciar mi chiste? Eh, o todos están durmiendo? Nadia? Nadia. Oh, 42. Hey, to the rock and rolly, 42. Hey, to the rock and rolly. 42? Tú dices que tipo eres de verdad que no eres de la mano. Tú eres un bofú. Un bofú, bofú. No. Would you like to play another tournament to look like the yesterday tournament? Eh? With the bofú friends? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Yeah, I feel like it's too old. Buen día. Can you stop a beat? Doen día my job. ¿Qué te pasa grandes? Nein, sí, sí. A verano. No, sí, sí. No, yo, yo, yo. No, yo, yo, yo. T�یا! Frauen, spio. andonosansosososososososososososososososososososos supr Hendersonososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos! sorry guys today i have so many laughing attacks today today i'm too dyslexic i refresh the stream wait but wait for you sorry wait today is not our talking day as you may have noticed you have you waited the video to buffer by the way I ate gumballs gumballs and gumballs gumballs is it? cheering gum? Caesar Caesar you have to practice Laura i couldn't do that too you have used the blaster so as i have seen there are many people who play well so what does that mean? Bufusch Bufusch chingham che ving mentira che ving gumball bumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbum lalalalalalalala Allora, one, two, three. Inchiarino, no, rinno. We put Jessica outside. Vermentinen! Dai, non esagerai. Come cosa? Tu. La testa va in bocca. Piccolo hamster senza rota. Ti scioglierai. Quando abbiamo fatto la combina. Perdona. Ciao. Adios. Sono spettatore? Buonanotte, Angel. Non bemo mangiare, tranquillo. Tranquillo che mangiare non s'accorderemo di ti. Ciao ragazzi. Chi va? Loli? No, no. Angel. Que bello. Venga, buonas noches eh, Angel. Non me more la tarta. Bueno, come buonas noches, certo? Buonas noches. Buonas noches. Ah, bueno. Sono la una. Ciao, ciao, ciao. Ehi. 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 Come se lo va a pensare, Angelito? Al posto di decir che... che iba a dormir con nosotros nello casco, eh? Quando partono bufus. Oh, basta. Basta, in serio. Por favor. Decame. Decame. Tengo novia. Oh, aiuto. Oh, tu hai scoperto, Laura. Poi ti ho scoperto. Che hai scoperto a me, Laura. Ok, è il Mexicoso. Auf beiden pilschermi. Di te una perspettiva e di te una. Tieni. Oh, hai scoperto. E sei scoperto. Oh, guarda, guarda. C'era Loli che mi sta cercando. Loli, dove sei? Escusa tu ruido. Tu puoi dire? colore che si muove nella in chiostro c'è la 6-16 che ti vas a dormire a la 6-16 emmeti me ponen a dormir no è stato il amor che era joven a 10 anni e lo ponen a dormire non lo ponen a trova carlo e le panno la donna... ma scusa ma non era in Corea. Oh Laura, that's not good. Laura, just love for Laura. Claro. Sono in questo caso egoista. Perché? Ma tedesca. Tedesca! Tutto quello che tiene grande Megapattro di tutti noi! Tedesca! Hasti già versucht mal mit dem Blaster un bici so zu springen? Tedesca! Tedesca! Esca! Esca, come sebo? No? Si, Angel, lo se che tenen 9, però ha sido pa' simplificar. Perché se hubiera dicho 9, me habrías dicho, casi tengo 10, a que si? Tedesca! Tedesca! Noi, tu si che hai testa. Che è Calum? Tedesca! Tedesca! No? Entonces... Tedesca! Dice 42, chi è questo Calum che Tibone parla? Il Calum? È una persona? È una cosa? Si, penso che Tibone... Ah, è chiesto di chi, quindi è una persona, no? Bufu! Bufush! 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 Ehi! L'ho già detto antes! È un copioglio, lo sapevo! Bufush! È un copioglio! Si, è un copioglio! Scusami! Nobem! Zeno splat! Gousse, gousse! Ho una nuova auto che fa gousse, 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 hai una nuova auto che fa gus, gus, gus una, una, una nuova chi è questo Rochambo? non lo so è boh, ha fatto non fare entrare 42 alla prossima nuova ok, 42, sorry, la prossima sarà un nuovo un nuovo quante ore? 50, no? non arriva, sicuramente no, non arriva quante ore? 42, ho provato di andare nella lista per la prossima ristariamo, non problemi non problemi ho una nuova auto che fa gus, gus, gus e loli, loli è nuova gop, google, loli, 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 loli gus, è un figlio e spazzo in tu mano Santi e di Loli 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 What the Fox say Duck 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 Questa le piace le dirono Quale? What the Fox say Duck 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 What the Fox say Duck 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 Questa canzone è uscita 5 anni fa Minimo Das ist mindestens 5 Jahre altes Lied Fortuna non escusate No divertente Duck 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 Credi mi What the Fox say Duck 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 Wir spielen zusammen Santi 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 Oh Gott Oh 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 Oli Loli 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 Oli Loli Loli Oli Loli 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 Wow Gus Loli Que esplatada Más buena What the Fox say What the Fox say What the Fox say Netman Netman Ciao Nintendo Come stai Nintendo Right now I start to speak with you Nintendo Only in Italian Ok Come stai Nintendo How are you Nintendo Come stai Nintendo Two dislikes Jessica Tienemos dos dislikes Really? Oh how bad I cannot sleep tonight No 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 I give you one one thing and you can sleep Chiaro Chiaro Una Tisana Però 24 like Ma perché esplato questo neoclassensebolera tutto il rato? Se io non lo sto buscando, non lo sto neppuntando e di repente mi sale esplattato io, vale? Penale? Per me niente, però... Angel, in serio, in serio te lo dico, eh? Mira... E' nuovo? Eh sì E' l'unico che si muove, perché? Mi ha detto direttamente al collettino Non c'è problema di dislike e cosa si Nooo Io credo... Claro, in serio E' che? Non si può credere che qualcuno ci dà un dislike Nooo Mira, me lo pongo Lo pongo... Vale... In action with friends Perché non mi ha posto il nome che io volevo poner In questo live, in questo diretto Perché non mi ha posto il nome che io volevo? Mi ha posto il nome che voleva... Ma se io voleva questo nome qui... Oh no! Oh Gesù Cristo! Allora... Che sta passando? Che sta passando? Mira... Attualmente... Il nostro idioma... Però... Parliamo cinque idiomas Quindi credo che... Uno dei cinque idiomas Una persona può saperelo Perché se tu non sai uno dei cinque idiomas che sappiamo noi Chico... E' un problema tuo Tu e io... Tiene che apprendere qualcosa nella vita, no? E' un secondo idioma E' una cosa che tiene che apprendere O sì o sì Con che andas? Con... Con mia madre In questo senso... Che ti ha motivato a dire questo? Eh... Il... Il... Il chico... Che si chiama... Guzzama... Agaslav... Agraha... Il... Bicolol... Pfff... Pfff... Sì, certo Nintendo! Next will be resettate! Sì, Nintendo! Ma... Tu devi pagare... Se vuoi spiegare con me Un euro... Un euro... Free match! E' un davvero... Buon prezzo! Quindi Nintendo... I'll give you my... Paper number... 5... 7... 3... 2... 2... 2... 7... 8... W... 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 W2... Is the bubbly blue? No! No! Yeah! 8 euro... 8... Only 8 euro! We have due discount... Only for you! ok poison new room, new boom new boom why poison no poison for you the change of name free, because the girl don't pay the name only the man have to pay the name don't worry don't worry, be happy, smile the sun shiny to you to me new broom, new broom new broom, 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 broom 25, 28 yeah, new broom, only for you, my brains transgender people too complex question I'm racist only with the racist only with the animal not with my special not with my species yeah not with my species no I am against only the other species if transgender are by my species no problem no problem ho una nuova auto che fa gus 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 dai esci tu giochiamo con uno solo wait wait iris enter now please now now quick jazz go back come on come on me mettono l'olio? l'olio sta contigo perchè? io non sto contigo, che mas? no, possiamo... me vuoi a jugare una mistosa che... vai 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 fai punti almeno e passiamo al 19? ah ma c'era dentro ma perchè cazzo è uscito allora? ok 3 2 1 vegetale laura l'olio sta contigo l'olio sta contigo si è salita senza chiedere ora verrà su l'olio sta contigo la tua amica Laura l'olio sta contigo 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 Sì, no? Sto sicuro che sei un ragazzo di pieno, non loco. Sicuro è Edmund? Oh! Oh! Non l'ho visto Edmund! Oh! Non ho visto questo che stavo spratando fino a che non mi è spratato lui quando ho smesso di spratarlo. Che dice Dancing Laura? Diciamo che è una combinazione di schiacciature, di botoni, infortunità. Non ho capito io cosa ha fatto, però non è stata la cosa corretta per continuare a giocare. Si è seduta sul Joyped. No, tipo ha schiacciato B, poi ha schiacciato C, poi ha schiacciato O. C'è un panico. Si chiama eccitamento, Tris. Come? Eccitamento, Tris. E' la... Esatto, non lo dico. Ok, Matt. Agitamento, Tris. Sono delle squallor, dice così. Io sono fatti agitamento, Tris. E l'altra ti dice, eccitamento, Tris. Oh, mio Dio. Per favore, stop. Ah, è questo che vuoi. Già, ti do un cazzotto in bocca. Eh? Non definirmi cosa è. Un cazzotto, un pugno. Ah, vero? Ti dovi un pugnetto nella bocca che ti faccio come Bugs Bunny. Pacificos forever, eh, chico? Eh, chico, ora è Peggy 18. Quindi, come se, tutti siamo la maggior edizione in Europa. Perché i bambini hanno bisogno di dormire. Quindi, chi sta qui? Ora, ascolti la cosa come, hijo di una frutta. È 18? Si. Non è un Min femme, nessuno mi piaceva, nessuno. Chi noe. Mi piaceva, 커�per una rigu escrita. Non ho scpito. Nei altri record. ma... chi è andato? il match di handicap non è possibile come è possibile? non è possibile Iris, avete visto il servo con il tournamento? o cosa? che tonteria ha questa persona! ho detto che mi sono andato un po' a l'altra per tirare una bomba e mi ha esplettato nemmeno che ha fatto il movimento così, più o meno Ciao! non ho fatto non voglio vedere il tuo stupido il tuo tournamento adesso mi dice non odio il tuo tournamento ma... ho detto che ti ho risposto sorry nintendo ho detto solo che ti ho detto abbiamo messo la lista di persone nel Discord si, puoi vedere tutte le persone che giocano Jessica giocato io giocato ovviamente siamo qui per fun quindi giocato non 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 è un tournamento non 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 och non 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 nella seczione corretta 42 42 42 42 42 42 42 42 This night I nightmare with you Where is the tower? With join I meant try to meet there as we most often do You know what I mean Sorry, ranked? Doesn't it mean Oh my god Don't tell me please that ranked isn't the normal mode and I'm saying it bad all the like since two months? Oh my god, oh my god, oh my god What does ranked mean? The ranked mode? You think I'm saying it all the time No, ranked No, ranked his rank he only does a tour for But ranked mode what is it? I mean ranked battle? This What are you doing? Friend, yes Yes Okay Okay This is called the pile Maxwell Maxwell Yes? Yes How much of a load? Okay 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 He just explained it to me I didn't get it that way Okay I was saying it wrong all the time then Like all the time, you know? Yeah That isn't so practical, you know? I might have confused a lot of people in that time I might have confused a lot of people in that time My reflex My reflex My reflex My reflex 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 Now They're playing Sudoku This person No, it's pretty No, it's pretty Your reflexes are playing Sudoku Yes No, it's pretty No, it's pretty Yes I'm not moving Like maybe Popular Oh Forty sono Come with me, please Una volta, Oli, a Isplatiu Ah, ok Batto sulla battaglia pro Non ho bisogno di 4 Ah Ah, perché lì hai un rank Ora ho capito Grazie Loli, come sempre La Loli Enciclopedia Lolipedia 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 Vale, questa partita ha sido Horrenda, literalmente No, non è così male, però Jogavamo molto bene No, no, no Sono l'unico Qui Io credo che il nostro diretto va a terminare in dos partito Non è vero Non è vero Non è vero Anche un match of 3 può fare Loli, Loli, 42 Loli, 42, please Later Change the O, please Because people No, 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 no No, no, tranqui Quiet No, no, no Don't worry It's not It's not It's not It's not Nmart The code was Wait 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 guys Handicap match This Handicap match Faremo Handicap match No Che faccio io lì Handicap match Oh my god Adesso si che è Handicap match davvero We also made Made A mistake I have Noi non abbiamo mai mai spiegato la luce, non abbiamo mai mai spiegato la luce. Abbiamo così, come si dice, in avanti. Yeah Madness, enjoy! And now, he directly or will... We go for you? For you, yeah. You shouldn't have said that. They will protect me, even if they are not in my team. The foxes say, handicap match. Here for the two, it's a quarter to two at night. You had at least a week. They had nothing here. I did watch YouTube, but Twitch don't work. I don't understand why Twitch don't work properly. So, but it's not my problem. People from pizza! Here is your first flat on me. But I made it as a gift for you, Enmad. You saw, no? I just run into your laser of the sniper. No, no, no. I cannot say the reaction at this hour. Because my... Neighbors? Neighbors. You were afraid, Enmad. You were running away. Come on. Your neighbors? Yeah, my neighbor. If I say the reaction, maybe call the police. No, I'm in there. I'm in there. I'm in there. It's only for me, this. Adesso, eh? Who? Eh, I've already been waiting for you three times. Eh, you see? But I don't have a excuse. Or at least you haven't been taken away. Oh, no. You see? Eh, then... Okay. It's escaped from me. It's already served. You understand? It's escaped from me. Oh, my God. It's escaped from me. It's escaped from me. Oh, my God. 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 Sniper! Sniper! Laura? Ah, 42! Si, si, Rin! Non preoccupi! Be happy! Laura! Laura? No, the laser! Ah, what's up? Ok, too many! Oddio! Wow, wow! Wow, wow, wow! Endicap Match! Bang! Now, we're going to create another Endicap Match! A ver! Minchia! Mi stanno facendo venir la voglia di saper usare un Sniper! Veramente! Wow! 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 E' la cosa del America! No, tío! No, 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 no! A mi el Sperato me gusta ir super rápido sin frenar casi! A veces tengo que frenar porque digo, frena! Y el Sniper me parece como estar así! Pero que no es verdad! Porque también se puede... Te acuerdas ese Sniper que pintaba con el Sniper? Que guapo! Minchia! Había un Sniper, chicos! Que pintaba con el Sniper! Lo teníamos, señor! ¿Era grabado? ¿Quién era? No me acuerdo! Uno de los últimos que grabamos! Es verdad! De los últimos que grabamos! Uno de los últimos que grabamos! Jess, did you like it? Yeah! Yeah! I enjoyed it! And you? Yeah! But the next time you run away, I will say it as well! Alex, Alex gave me... Igoni, never run away! Yeah! Igoni, never run away! I, I, and mad, and mad! Have you listened? Yeah! Igoni, never run away! You should go for the strong ones! That's the technique you should use, not for the ones that play badly! And mad! Come on! Igor, you don't stop! And that's it! I enjoyed it quite a lot! What is? 25, 28... Javier! No, don't you think? Yes! I can do it! I can do it! I can do it! I think I did... I'll keep doing it... I can do it! I'm going to save it! Because I'm starting to save it! I'm going to save it! You can do it! I'll save it! molto poche ore, non si eliminiamo 25-28 ma che nada per avere un criterio 25-28 Enmar? no, poi stuvi slowly questo è un handicap? in serio? e in che equipe sto? in il handicapato o in l'altro? non, 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 non sono il buono Alex credo che lo ha entendo, non? no no, non sto in il handicapato dammi un ok no, già dammi un ok sono tutti in base oh, è stato in giro 25-28 2-5-2-8 come los enanos no 2-5-2-8 stiamo giocando per questo non scriviamo wow 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 25-28 a parte che adesso sì, faremo la ultima facciamo il ultimo match e parliamo di stream ma magari magari continuo di stream solo in Discord per i miei amici qui quindi in Discord posso creare un quarto e possiamo giocare solo un po' più se vuoi se vuoi eh? ma perché? perché? perché non moria l'oli? perché non si moria? oh no 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 me lo creo Kribe run Edmond run Edmond run Edmond 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 oh double kill with one grenade reaction banga banga boh 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 oh 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 grande jazz perfetto bel movimento è fatto proprio si si minchia oh oh no 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 dove? dove è il bazookarpo? oooh abbiamo farsi bazookarpo perché sarvi spaventare nessun altro perché sei su io e stai io davanti loli 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 oddio loli no 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 spero spero No, non me lo creo Doctor 2.1 No, un metro, Enmar Thank you Loli, grande Oh, no, Loli Checos, guys, guys Grande, grande, grande Bellissimo, alla fine Oh, chicos Antes, ahora lo diré en español Y después lo vamos a decir En Inglés, vale Ahora Lo sé que estamos aquí Todo lo sé y tenemos Discord Es verdad, verdad Entonces ahora vamos a hacer una cosa Muy, muy, muy bonita Haré un directo privado Solo en Discord Para nosotros Aún por un par de partidos Y nada más Si vos gusta Ponéis el chat Dime algo Ok So Guys, we are Gonna close the stream But Because We all have Discord Here We are gonna make a private Discord stream Such to say For the people who are here The same Of this Yeah, the same like this But In Discord In Discord For you For all Ok Enmar Enmar I also killed you So We are in peace Together So, guys Guys I stop the stream Here Laura Laura, Laura Verstanden We are going to do the stream In Discord Ok Come Just And Guys I will create The room Right now For private streaming Right now So Wait me Wait for me One second And we Play again Bye bye Bye